Moemi! Accidenti! E adesso che faccio? Che faccio? Che faccio? Buongiorno, Moteucci. Ah? Ah, buongiorno, Moemi. Su, andiamo, sta iniziando la lezione. No, 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 no. No, 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 no. Moteuchi, potrai parlarti un attimo? Ti confesso che ieri sera ho pianto Non so se Nima gli scherzasse o dicesse sul serio Ma per me è stato un vero shock Ma poi ho riflettuto su quello che mi avevi detto Che lui non si è innamorato di me Io ancora non lo so con sicurezza, giusto? Quindi ho pensato proprio così Devo impegnarmi e fare modo di attirare tutta la sua attenzione Sì, certo Giuro che ce la metterò tutta Ma tu mi aiuterai, Moteuchi Sì, lascia fare a me Ti ringrazio Tu sei un vero amico sul quale si può sempre contare Grazie a tutti Grazie a tutti